Sì ragazzi, oggi parliamo di lui, del Mimax 3, un prodotto che tanti odiano per le dimensioni ma che comunque sarà che alla serie Mimax ci sono particolarmente affezionato perché il Mimax, il primo originale è stato il mio secondo Xiaomi, non so davvero cosa sia ma io ho un rapporto di amore con tutti i Mimax che escono. Siamo arrivati alla terza generazione e se riuscite a leggere qua ho scritto Stay True, rimani fedele, sì perché questa è una delle poche linee di prodotti Xiaomi che rimane così come deve essere, grossa, funzionale, con una batteria enorme e che ha anche tante piccole chicche sparse in giro per il telefono. Certo le dimensioni sono per una razza aliena che ancora non è stata scoperta ma chi compra il Mimax 3 sicuramente ha dei motivi ben precisi, motivi che andremo ad analizzare in questo video che già vi anticipo non sarà un video lunghissimo, perché non sarà un video lunghissimo? Perché questa è la versione cinese che se comprate dalla Cina arriva con la ROM farlocca, se arriva con la farlocca non c'è niente da fare, ogni tanto gli store ci ricadono. La ROM in questo caso è la 9.6.4.0.0, se ci avete con la ROM occhio che è una fake, non è un dramma perché comunque il bootloader è sbloccato, potete tornare alla Cina e poi passare all'EU, vi lascio il procedimento qua sotto in descrizione, però comunque è sempre una scocciatura. Proprio per questo ho chiesto a Geekmall se ci mandavano la versione internazionale che dovrebbe essere uscita e quindi probabilmente vi porterò quella come video proprio definitivo sul Mimax 3. E comunque pure con la ROM fake è una bomba, è incredibile. Perché dovreste essere interessati a questo Mimax 3? Allora magari come secondo telefono avete magari un semi-compattino, è comunque un telefono bello potente, prestante, che non va arriva a sera con la batteria, state sempre lì risicati. E quindi magari volete un secondo telefono che potete tenere in ufficio, a casa, in macchina, dove volete. Non dovete mai pensare, oddio ma la batteria sarà carica? Sì, è sempre carica la batteria. Usandolo saltuariamente come secondo telefono io ci ho fatto una settimana. Andavo lì, ci leggevo un po' di fumetti, ci guardavo un po' di film, un po' di YouTube, qualche messaggio su Telegram. E è passata una settimana così e mi sono accorto che era arrivato al 10%. È fantastico, è proprio senza parole. Potrebbe interessare anche a chi cerca un tablet, però vuole proprio un tablet super compatto. E lui può fare benissimo questo lavoro, perché se ve lo metto vicino al Mi Pad 4, con il quale vorrei portare un confronto dato che alla fine hanno molte cose simili, no? Partendo dalle dimensioni, a favore però che lui ha due SIM. E sì, a questo è un altro vantaggio che può avere il Mi Max 3. Un tablet con le SIM, con tutte e due le SIM in dual 4G. E tra l'altro avete anche l'espansione, se volete, della memoria. Abbiamo gli infrarossi, abbiamo il jack da 3.5 mm, abbiamo la DPSI. Quindi, insomma, capite che è un prodotto davvero completo. Allora, mentre vi faccio dare uno sguardo all'estetica del prodotto e al display, del quale parleremo tra poco, mi scuso perché negli ultimi video sto girando un po' a casa, anche in questo, no? Notate come spazio da un argomento ad altro. È che non mi va di mettermi lì a scrivere le robe al computer, perché perdo tantissimo tempo. E poi stare lì parecchio tempo al computer mi stanca pure, quindi vado un po' così diretto. Poi mi piace pure perché dico proprio quello che sento del terminale, quello che mi viene proprio in mente così, guardandovi come se voi foste la telecamera. Ma vabbè, piccola digressione a parte, guardate che bel display. È enorme, da 6.9 pollici. Display che, vabbè, io tra l'altro ormai utilizzo sempre con la monitora lettura, ve la disattivo. E notate la qualità, è davvero una bella qualità, è un bel pannello. È leggermente più qualitativo, secondo me, dell'A2 Lite, dell'A2 che abbiamo visto settimana precedente. Ha il digitalizzatore che funziona benissimo. È un pannello eccezionale per l'uso che deve essere fatto di questo terminale, ovvero visione di contenuti multimediali e robe del genere. Ma il suo uso non è soltanto multimediale. Lui può essere anche una macchina da gaming. Sì, ormai l'avete visto, no? Ho riscoperto un po' il gaming su Android. E giocare su questo Mi Max 3 è una goduria. Si tiene benissimo all'audio stereo, quindi avete un audio diretto. Che poi, essendo grande, quando lo impugnate non andate praticamente mai a dotturare anche il secondo speaker qui di lato. Quindi alla fine avete un audio eccezionale. Le prestazioni sono ottime perché abbiamo uno Snapdragon 636 che, assieme all'Adreno 512, ha il supporto alle api Vulkan, con i 4 GB di RAM in DDR4, dual channel, con il file di sistema in F2FS. Insomma, prestazionalmente è una goduria. A provare delle prestazioni, allora passiamo alla camera. Perché tanti potrebbero dire, vabbè hanno fatto il classico tablet, no? Strafigo però con le fotocamere che poi fanno pena. Eh no, e qua invece vi sbagliate perché lui ha delle fotocamere fantastiche. Vi faccio subito vedere i sensori. Tanti mi chiedono, ma come faccio ad andare a vedere i sensori? Andate nelle informazioni del telefono e cliccate un paio di volte sulla versione del kernel. Vi verrà scritto avvio cheat. E poi, quando state nel cheat, andate in check version info. Andate giù e avete le camera information. Avete anche il tipo di pannello LCD, chi l'ha prodotto e tutte le varie informazioni. Come vediamo abbiamo tutti dei sensori Samsung. Un S5K2L7, un S5K5E8 e un S5K4H7. Allora, l'S5K4H7 è la camera frontale, che è da 8 megapixel. Il sensore è davvero piccolo, è praticamente 1 su 4 pollici di dimensioni, con i pixel di densità di 1.12 micrometri. E infatti le foto con la camera frontale, sì, alla fine riescono anche abbastanza bene e leggermente meglio della 2 Lite, però non sono comunque foto fantastiche. Discorso diverso per la camera posteriore. Camera posteriore che si affida all'S5K5E8 come sensore secondario per la modalità ritratto. Il sensore che tra l'altro dovrebbe essere lo stesso della 2 Lite per fare i ritratti. La cosa strana è che i ritratti su questo Mi Max 3 escono mille volte meglio di quelli della 2 Lite. Non so dove sia il trucco, ma se io vi faccio vedere lo stesso ritratto fatto da lui e dalla 2 Lite, il suo secondo me è decisamente meglio, ma proprio 10 volte meglio. Mentre se parliamo del modulo principale, di quello che ci fa fare effettivamente tutte le nostre foto quotidiane, parliamo del più recente S5K2L7, che fa parte infatti della famiglia Fest, degli ISOCELL. È un sensore abbastanza grande perché parliamo di 1 su 2.6 pollici di dimensioni. Abbiamo infatti i pixel di 1.4 micrometri, quindi capite che di sera alla fine riesce a fare belle foto. E infatti fa belle foto sia di giorno che di pomeriggio che di sera. Facendo parte poi della gamma Fest, lui riesce a fare anche l'autofocus dual pixel. Ha l'autofocus dual pixel e infatti anche l'autofocus è fantastico. Insomma, per 200-230€ la fotocamera secondo me può essere soltanto che approvata. Ah, i video. Lui registra a 1080p a 60fps, stabilizzato elettronicamente. E fa anche il 4K, stabilizzato sempre elettronicamente. Poi vabbè, dell'audio più o meno già vi ne ho parlato. È stereo, infatti abbiamo sempre la soluzione sopra e sotto, che poi la maggior parte dell'audio, la maggior parte delle frequenze escono tutte da sotto. Sopra abbiamo qualche frequenza alta, che comunque si fa sempre comodo. Poi lui ha un volume bello alto, quindi riesce a distinguere bene i due canali. È un audio effettivamente stereo, non vi rivoluziona la vita, però è sempre meglio averlo. La cosa veramente più bella è che ti sta a sentire, perché non c'è niente di più importante di un uomo che... Come ci sono finite le brode del maiale sul soffitto? Spider pork, spider pork, il soffitto tu mi spork, tu mi balli sulla testa... Ah, sono serio? Cioè... Ah già, no, era stato ieri, certo. No, oggi, lei dice che avete fatto delle offerte. Parliamo di una nota dolente, la banda 20. Qui sopra manca la banda 20, lui infatti è un telefono cinese, la connessione è leggermente noiosa a volte, però devo dirvi la verità, si riesce a chiamare bene, ovvero quando c'è segnale la chiamata è buona, non si sente bene, ha una buona capsula auricolare e non ho notato quella lentezza di cambio segnale che avevo riscontrato sulla 2 Lite e la 2. Per il resto la MIUI ve l'ho detto, è la versione questa qui farlocca, aspettiamo tutti insieme la versione internazionale, così diamo uno sguardo a quella ROM e come gira il telefono con quella ROM. Ad oggi posso dirvi che secondo me il detto stay true per questo telefono è stato rispettato ancora, anzi, si è anche migliorato, lui è il Mi Max definitivo. Se cercate un terminale di questo tipo, lui è il Note 9 dei poveri, il Note 9 di noi altri alla quale non serve l'S-Pen. Fatemi sapere cosa pensate di lui e quali secondo voi sono le alternative a questo Mi Max 3 e noi ci vediamo prossimamente. Non mi rispondete con i Cubot e i Dogi perché non vi rispondo, già lo dico.